Lunedì nero sulle strade molisane, diversi incidenti si sono verificati anche a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia e dalla grandine, un mortale lungo la fondovalle Tappino, in territorio di Gambatesa, a scontrarsi due auto, una Opel Corsa e una Fiat Panda, che viaggiavano in direzioni opposte, impatto laterale, fiancate e completamente distrutte. Non ce l'ha fatta una donna di 69 anni, di nazionalità tedesca, residente a San Giovanni Ingaldo. È morta durante il trasporto in ospedale, nell'abitacolo della Opel, insieme alla vittima e il suo compagno, un uomo di 80 anni, anche lui di San Giovanni Ingaldo, trasferito al Cardarelli insieme al conducente della Fiat Panda, sul posto intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e personale Anas. Un altro grave incidente è avvenuto sulla statale 17, in territorio di Castelpetroso. Un uomo di 60 anni, di origini tunisine, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del suo camion. È finito fuoristrada, scontrandosi con una parete rocciosa, l'impatto violento, il vetro del finestrino spaccato, l'uomo scaraventato fuori dalla cabina e finito sull'asfalto, trovato poco dopo dai soccorritori del 118, riverso in una pozza di sangue. Il suo camion ha continuato a urtare contro il guardrail, poi di nuovo le rocce, fino ad arrestare la sua corsa, pochi metri più avanti, di traverso alla carreggiata, lunghe code in attesa che carabinieri e vigili del fuoco svolgessero i rilievi del caso. Riapertura del traffico dopo quasi due ore a senso alternato. Il sessantenne, prima trasportato al veneziale di Isernia, è stato trasferito al neuromed di Pozzilli in gravi condizioni. Terzo incidente della giornata lungo la statale 85, in territorio di Monteroduni. Un'auto è finita contro un camion, lievemente ferito il conducente dell'utilitaria, trasportato in ospedale a Isernia.